Pacchino, traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I carabinieri arrestano 35enne. Un trafficante di droga, 35enne, con alle spalle una condanna passata ingedicata a 5 anni e 6 mesi di reclusione è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pacchino e trasferito al carcere di Palermo. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari ma i militari dell'arma hanno dato l'esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria di Catania. L'uomo è responsabile nel novembre 2020 di traffico di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi. All'esito dal giudizio, all'uomo è stato combinato una pena di 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione che dovrà scontare nella casa circondareale Capodonna di Siracusa.